Colin Farrell è uno dei sex symbol di Hollywood per eccellenza, la sua fama da latin lover l'ha sempre preceduto e per questo è ancora più importante che proprio lui, l'eterosessuale di Hollywood per antonomasia, metta la faccia e la penna a favore della campagna per il riconoscimento dei diritti dei gay in Irlanda, dove a marzo si voterà per il referendum sulle unioni tra persone dello stesso sesso. Colin è diventato il volto della campagna Yes Equality, che da tempo tenta di far passare una legge sul matrimonio gay in Parlamento. Farrell ha spiegato in una lettera aperta al Sunday World il motivo che lo porta a spendersi così tanto per il riconoscimento delle unioni omosessuali. Il fratello maggiore Imon è gay dichiarato e da ragazzo è stato vittima di bullismo, sopprusi e anche pestaggi. Non ha scelto di essere gay, racconta Farrell nella sua lettera, è stato sempre orgoglioso di se stesso. Ora Imon vive a Dublino in pace e con amore assieme al marito che ha sposato anni fa. Sono andati in Canada continua e che mio fratello abbia dovuto lasciare l'Irlanda per realizzare il suo sogno di sposarsi è folle.